Venezia è capitale della cultura europea, un progetto che la provincia di Venezia forse non condivide più. L'Inter per la presentazione della candidatura di Venezia, quale capitale europea della cultura, va avanti, ma non senza perplessità da parte degli autori del progetto. Qualche dubbio lo esprime il presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Sono tanti elementi che non tornano e siamo anche in difficoltà come provincia, quindi viene chiesto un impegno significativo, ma i risultati tendono a non soddisfare. Comunque anche il ruolo che la provincia può avere in questa operazione è un ruolo assolutamente marginale, e quindi personalmente devo dire che faremo anche una valutazione se questo impegno economico ha senso per noi o se a questo punto queste risorse ci conviene investirle piuttosto sul lavoro che non su un sistema che comunque non ci vede partecipi come credo avremmo dovuto essere fin dall'inizio. E appare sempre più evidente che in laguna le acque siano più che agitate, anche se il matondoso della politica agisce sotto traccia.